Sono ben 182 nuovi contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia ma a fronte di oltre 6.000 tamponi effettuati in 24 ore. Entrambi i dati portano le cifre ai record per il periodo. Si tratta dei dati più alti infatti registrati dall'inizio della pandemia. A livello territoriale il maggiore incremento arriva dal Friuli e da Trieste con 67 casi rispettivamente. Poi il Pordenonese con 25, l'Isontino con 22, ai quali si aggiungono 28 persone da fuori regione. I casi attuali di infezioni sono complessivamente 1.574. Salgono a 11 pazienti in cura in terapia intensiva e a 28 ricoverati in altri reparti tra cui il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Sergio Bolzonello. Non si sono registrati nuovi decessi e la cifra rimane a quota 356 vittime. I totalmente guariti sono 3.862, i clinicamente guariti 20, le persone in isolamento domiciliare 1.515. Nel dettaglio dei casi per qualche riguarda le scuole si registrano le positività al covid di due operatori a torviscosa. Inoltre sono stati rilevati due casi al liceo scientifico Majorana di Pordenone e uno alla scuola materna Marco Volpe di Udine. In ambito sanitario è stato trovato positivo al tampone un operatore dell'ITIS di Trieste, mentre si rileva tra i casi particolari l'infezione di due neonati e di due persone rientrate dalla Romania. Infine si registra un focolaio di contagi in uno studio commercialistico di Pordenone e l'allargamento di due cluster familiari a Porcia. Oltre confine pure la Slovenia ha registrato un numero record di nuovi contagi nella giornata di ieri con 707 infezioni su 4.902 test effettuati, a renderlo noto il governo sloveno. Altre due persone sono morte a causa del virus, portando il totale dei decessi a 175. Attualmente oltre confine ci sono 4.248 casi attivi, più 13,5%, 210 le persone ricoverate in ospedale, 35 quelle in terapia intensiva.